Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana e spero che questa settimana sia cominciata per tutti voi all'insegna del buon umore e di una giornata che possa prospettarsi insomma buona, se non eccellente. E qui sia per la parola, cioè eccellente, che per come l'ho pronunciata mi ricordo tanto Montgomery Barnes che è un personaggio dei Simpsons. In ogni caso, cos'è accaduto in queste ore su YouTube? Allora, prima cosa, pare che Werewolf sia andato via da YouTube. Io sinceramente ci credo poco, prima o poi questo personaggio sicuramente, come si suol dire, riciccerà fuori. Comunque per il momento pare abbia cancellato tutti i canali, abbia chiuso tutti i canali ed è per questo che Faith ha deciso di togliere il video che aveva postato, il video di Luciana dove ballava e dove c'era anche il numero di telefono della stessa. Questo perché? Perché Faith aveva detto che se fossero stati tolti i video e la foto del figlio, insomma, anche lei avrebbe tolto questo video e così è stato fatto, quindi quantomeno Faith ha raggiunto il suo scopo, quindi deve essere contenta. Per quanto riguarda invece Casa da Limberti, c'è stato la solita live di Davide che è durata veramente molto poco dove si è parlato come al solito del niente e dove c'era Luciana, perché Luciana, anche se aveva detto Davide che molto probabilmente non avrebbe più partecipato alle sue live, invece è lì. È lì che se la ride come al solito che mangia un ghiacciolino, che cerca di interagire con la chat, lei cerca perché Davide dal canto suo cerca di limitarla, cerca di stopparla, insomma, vuoi con gli sguardi, vuoi a parole, però come sappiamo tutti Luciana è intemperante, quindi riesce sempre ad introdursi nel discorso. In ogni caso, di cosa si parla in questa live? Scopriamo che Davide ha fatto 13 sposandosi Chiara, scopriamo che a suo dire, cioè a dire di Davide, il mare della Liguria è molto più pulito di quello del sud, oddio, se lo dice lui dobbiamo crederci perché è stato sia in Liguria sia al sud, o forse non è stato al sud, non saprei, in ogni caso se lo dice lui, insomma, crediamogli sulla parola. Cosa succede in questa live? Succede che come al solito, come già ho detto all'inizio, parla del niente e a un certo punto però, anche se ci aveva detto che la moglie stava dormendo perché aveva male essendo, insomma, il suo periodo del mese, a un certo punto si sente un ciabattio, lui si volge a guardare, insomma, verso questo ciabattio, dopodiché dice che è arrivato il momento di chiudere la live, quindi saluti e baci e chiudiamo lì anche se si stava parlando. E poi passiamo invece al video che ha fatto Chiara che si intitola Tutto rosa, scarpe e vestiti, che già questo tutto rosa, insomma, non preannuncia nulla di buono e in effetti, almeno per quanto mi riguarda, insomma, non c'è assolutamente niente di buono. Parla, comincia parlando di un cappello rosa della Nike che ha già fatto vedere in una live Vi ricorderete che a un certo punto di una live lei prende questo cappello, se lo piazza in testa e chiede all'utenza se ci sta bene, se è carina, se le dona, insomma, quel cappello della Nike rosa lo aveva acquistato con questi altri oggetti rosa Dopodiché ci mostra un paio di ciabatte, sempre rosa, di plastica queste ciabatte hanno una fibbia al lato e dice che sono molto, molto comode e lo spero bene. In ogni caso, queste ciabatte le ha pagate 10,99 euro Dopodiché mostra un paio di crocs non so se sapete, insomma, le crocs sono quelle ciabatte con i buchini che si possono portare anche a mo' di sandalo e lei è contentissima perché finalmente è riuscita a comprarsi un paio di crocs originali ovviamente rosa acceso lei dice che c'era anche il color grigio con i glitter però essendo anche 41 non gli stavano bene strano ma vero e c'erano anche delle crocs che erano color sull'illa insomma, però non la convincevano l'hanno convinta invece queste crocs rosa acceso e se le è portata a casa al modico prezzo di 23 euro perché erano scontate pesca ancora dalla borsa e tira fuori una vestaglia ovviamente rosa dovrebbe essere di un materiale tipo raso perché insomma, quello sembra ha le maniche a tre quarti, abbastanza larghe e dietro le spalle, cioè dietro la schiena ha la scritta Barbie e non so perché mi ha ricordato un po' quelle vestaglie che portano i pugili quando entrano sul ringo almeno portavano non so se vi ricordate insomma Rocky Balboa il famoso film Rocky Balboa che entrano con queste vestaglie insomma, ovviamente poi le tolgono per combattere insomma, mi ha ricordato quello non so perché, ma è così in ogni caso, questa splendida tra virgolette vestaglia è stata pagata soltanto 15 euro e tra l'altro ha anche un aneddoto cioè, lei era andata in un altro negozio Pepco perché questi acquisti gli acquisti per quanto riguarda gli abiti sono stati fatti da questo negozio quindi era andata da un altro Pepco aveva visto questa vestaglia di Barbie però la taglia era SM quindi small, medium lei se l'era provata e gli stava bene di spalle però purtroppo non si allacciava quindi sta talmente tanto dimagrendo la nostra Chiara Chiara che addirittura le stanno le taglie small, medium però insomma visto che non si chiudeva lei ha detto se trovo una taglia in più la prendo perché sicuramente mi sta bene e pare che così sia stato ci mostra ancora un capo rosa questa volta si tratta di una tuta sempre rosa ovviamente tuta che è formata da pantaloni con le tasche diagonali rosa che sembra di vellutino e con la scritta ovviamente Barbie che lei ha pagato 10 euro e dopodiché c'è anche il pezzo di sopra lei dice perché non potevo certo lasciare il pezzo di sopra ovviamente lei quando si tratta di acquistare non può lasciare nulla e quindi si è portata a casa anche la felpa di questa tuta sempre rosa con la scritta Barbie sul petto ovviamente dice che la maglia non è crop finisce in vita è lunga giusta praticamente e anche questa maglia lei l'ha pagata 10 euro ed è deliziosa veramente deliziosa così l'appella lei dopodiché ultimo acquisto e tira fuori dalla busta qualcosa che è strano ma vero non è rosa e di cosa si tratta si tratta di due paia di mutande ha preso la taglia L perché insomma altrimenti la XL poteva rivelarsi un po' troppo grande il taglio è taglio a slip senza cuciture perché ovviamente quando metteremo la nostra tuta di Barbie non vogliamo certo che si vedano le cuciture degli slip sotto e quindi le ha prese appunto senza cuciture dice anche che le proverà e che se le stanno bene andrà poi a prenderne di altri colori e speriamo insomma che trovi anche il suo amato rosa che a lei dona tantissimo almeno così dice lei dopodiché insomma ci dice che spera che questo insomma video sia piaciuto e di farle sapere quali cose che ha acquistato sono piaciute di più a me personalmente la cosa che mi è piaciuta veramente molto è la busta di pepco io non so a voi ma insomma credo che quella busta sia veramente utile e anche coloro insomma sono azzeccatissimi per quanto riguarda tutto ciò che ha acquistato chiara io sinceramente non so quella roba dove ancora possa ficcarla non so quando la metterà perché ne ha veramente tante di cosine che potrebbe mettere e non gliele abbiamo mai viste addosso quindi ma vai a sapere e a questo proposito io vi voglio leggere anche un commento che ha lasciato un utente sotto questo video e questo utente che si chiama Manny Score scrive Ken ne sarà di questi vestiti se non li utilizzerai reso o donazione a barbone sempre se si riprendono questi stracci indietro e sempre che il clochard con la barba accetti di girare vestito tutto rosa evidentemente anche a Manny Score questi vestiti non sono poi tanto piaciuti ecco e questo era tutto per quanto riguarda la giornata di ieri io vi ringrazio per avermi ascoltata se volete lasciatemi un like se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi un commento ciao a tutti e alla prossima un bacio grazie a tutti grazie a tutti